Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Allora ragazzi, oggi vi spiego come risolvere l'errore di Spritgate e faremo subito subito quindi come risolvere questi errori che vi danno sempre all'avvio quindi non ci vuole niente ragazzi, seguite la mia guida e abbiamo fatto un video di pochi minuti e abbiamo risolto tutto, se avete problemi commentate Allora, iniziamo ad andare su Steam e cerchiamo il nostro gioco su Steam e andiamo sulla sua proprietà, file locali, sfoglia i file locali Ok, ora dobbiamo rimuovere questi due file, sia il documento che il launcher quindi facciamo così, del, perfetto, aggiorniamo, chiudiamo e poi verifica l'integrità dei file di gioco e farà una piccola verifica di pochi minuti Ok, una volta fatta la verifica, sfoglia i file locali e come potete vedere sono ritornati due file vecchi quindi però adesso nuovi e aggiornati chiudiamo tutto e facciamo partire il gioco Adesso sta facendo un'installazione Perfetto E vediamo Ok La cronaca, ragazzi, io ho disinstallato il gioco e poi ho fatto la verifica però funziona lo stesso anche senza disinstallarlo Ok, bene Perfetto Ok Raccogli Perfetto Raccogli la pistola Raccogli la pistola Ah Ah Ok Perfettamente Quindi grazie a tutti per questa visione Noi ci vediamo ad un prossimo video Quindi ciao Ciao